Musica Fischietto in bocca dunque e si parte, è cominciata Grassina Flaminia con il primo possesso per i Rossoverdi Grassina Flaminia come detto è stato anche il match, è dato attenzione però al contropiede tentato dagli ospiti con il tiro di Sirbu e palla fuori e poi va a fischiare, occhio alla punizione, una finta rediera sub a parte Favilli palla liftata dentro, Calosi, Calosi, o pare, o è finita Villagatti ribattuto sulla linea, occasionissima per il Grassina tutto solo, Matteo che pensa al cross, lo prova, palla molto profonda Marcelli di testa, Edoardo Marcelli è subito a smitragliare contro i compagni ma soprattutto contro gli avversari Edoardo Marcelli, 1-0 c'è sempre la firma di Marcelli su gol del Grassina, Grassina 1 Flaminia 0 al quindicesimo deciso ma non è falloso e poi rilancia Calosi che tiene in capo il pallone magia di Calosi, se ne va Calosigno, entra in area Calosi ancora, palla a rimorche per dire, suba, alto punta Nuti e Gianneschi, prova a mettere nel mezzo, occhio ancora traditi palla dentro, colpo di testa, fuori di poco da parte di Cruz squadre già in campo, non ci sembra di vedere sostituzioni e allora via, riparte, Grassina Flaminia Torini per Matteo, palla in profondità, Derrasuba 1-1 deve puntare Derrasuba, punta Gasperini che lo spetta e Derrasuba può rientrare poi allarga, Calosi, Calosi la blocca Oparà con intanto il Grassina che prova a portare altri pericoli anche se Torini perde di vista il pallone poi lo riprende e serve Derrasuba prova a scappare in velocità, Derrasuba contro Fe Derrasuba ancora, va col destro, Derrasuba palla alta Favilli, cercato da Matteo sbaglia però Favilli, attenzione occhio all'ora contro il piede del Flaminia riparte Cruz, presa anche a destro, Cruz e c'è il gol sotto l'incrocio, il destro di Cruz una sassata Sirbu si libera di un avversario osserva ancora Cruz sull'altro di destra occhio a quest'azione il cross per traditi di testa palla alta grande recupero di Zaga che fa ripartire subito Bellini spazio per lui, Bellini ancora in area Bellini col destro Oparà però si, tuffa se la gioca così la sua terza sostituzione Mister Innocenti Occhio intanto alla veloce del Flaminia con il numero 4 guarda Lupe in rovesciata palla alta di poco punizione per il Grassina Villagatti a cercare la sponda di Marzelli ecco la sponda Calosi può andare sul pallone prova con sinistro dentro Bellini alto che chance però ancora per il Grassina fa scorrere bene il pallone Calosi spazio per lui Calosi Zagaglioni in area ancora Zaga col Marcino palla fuori il tocco però non è preciso occhio all'ora al controbede del Flaminia siamo già dall'altra parte palla in profondità per Sirbu che ha spazio Sirbu davanti a Mataloni Sirbu fuori fuori palla profonda esce Mataloni a smanacciare arrivano i tre fischi del signore Bortolussi finisce 1 a 1 qui al Pazzagli